La situazione meteorologica sulla regione vede l'avvicinarsi di un fronte che interesserà appunto il nord-est italiano nella giornata di sabato e un secondo, anche domenica, entrambi direi di intensità piuttosto debole. Ecco che per sabato provvediamoci un genere nuvoloso, qualche debole pioggia locale, un po' più probabile sulla parte orientale della regione, possibile qualche fase di nevischio, specie sulle prealpi a oltre 1000 metri. Temperature in aumento nei valori minimi, non più gelate in pianura e rimarrà qualche sotto zero di notte appunto a fondo valle. Massime stazionare tra 8 e 11 gradi. La giornata di domenica vedrà il passaggio del secondo debole fronte, ancora della nuvolosità, specie al mattino, qualche debole precipitazione, sempre un po' di nevischio, 1000 metri circa. Poi dal pomeriggio un miglioramento, ma in serata si addensa, qualche foschia, forse anche banchi di nebbia. Temperature in deciso aumento nei valori minimi sulla regione, stazionare le massime. In prospettiva la settimana si apre con una fase di pausa, variabilità lunedì, però foschia o banchi di nebbia al mattino specialmente in pianura. Temperature, di nuovo qualche gelata possibile in pianura massime, rimangono sempre sui 10-12 gradi. Da Rosmer è tutto, un saluto da Arturo Pucillo.